Ritengo che cercheremo di valorizzare, come è giusto che sia, anche da parte nostra, la piazza che si può dire è una delle più belle piazze d'Italia e intendiamo dare anche noi il nostro contributo per vivacizzare e dare un servizio anche alla collettività e dare anche un motivo ai giovani e anche ai meno giovani di poter fruire di questo nostro spettacolo in modo molto tranquillo, in modo familiare, cioè in un ambiente che è rilassante di suo ma comunque che è abbinato ad una situazione di movimento come è la discoteca e ovviamente cerchiamo di mettere insieme l'esigenza di tutelare la collettività da questi impatti acustici che ovviamente sarebbero poco indicati per Piazza Cavalli, compreso invece utilizzare Piazza Cavalli per valorizzare, come dicevo prima, questa bellissima piazza e questo bellissimo ambiente. Grazie a tutti. Ciao.